... Bosco, buon poveriggio, India 8798 India 8798, Bosco, avanti Bosco, linea 98, 2 a bordo, 3 autonomia, pronto per un uomo locale di un'ora a nord-nord-nord India 8798, vitto preferenza USA, lento calmo, QNH 1015, riporta prima di attraversare India 8798, ricordo la chiusura dell'aeroporto alle ore 19 locali Vittor, Vittor, Vittor Ecco, riporta in finale Il Delta 4808, virando in finale con il Vittor Chiarendito Vittor, 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 Vittor India 98, mantengui posizione Vittor, India 98 Vittor, Vittor,Governo che nello Copierata di parte in finale, allianti in finale Markment Vittor, Vittor, Vittor Tmeth 442,orgemail, Vittor, Vittor... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.